La Commissione Europea ha raccomandato come previsto di abrogare la procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo a carico dell'Italia, che ha rispettato l'obiettivo del deficit al 3% rispetto al PIL del 2012 e in previsione di un rapporto disavanzo PIL del 2,9 quest'anno e dell'1,8 nel 2014, secondo il programma di stabilità adottato dal Governo. Queste però le raccomandazioni dell'Unione Europea, aggiustamento dei conti per centrare il pareggio di bilancio strutturale dal 2014 e una diminuzione regolare dell'alto debito. Deve poi riformare il lavoro e giustizia civile, scuola, fisco e proseguire la spending review, una decisione che l'europarlamentare della Lega Nord, Matteo Salvini, commenta così. Questo palazzo sta strangolando le autonomie, le produzioni europee, i cittadini. Adesso è come uno che tiene il cane al guinzaglio. L'Unione Europea, dopo averci tenuto al guinzaglio in modo tale da strozzarci quasi negli ultimi anni, adesso ci allenta il guinzaglio e ci fa una pacca sull'orecchia e dice, vabbè bravi, allora per qualche mese facciamo finta che siate quasi normali come Italia. Il rientro dal deficit l'ha pagato il massacro dei lavoratori, dei pensionati e degli imprenditori italiani. Quindi è un paese allo strenuo, ma parlo d'Italia, come potrei parlare di Grecia, di Portogallo, di Spagna e fra non molto anche altri paesi la Germania non se la passa benissimo. Quindi è un'Unione Europea da ribaltare completamente, quindi non può azzoppare interi paesi e poi dire, vediamo la mancia. Quindi come Lega siamo qua per ribaltare totalmente un'Europa che fa gli interessi di alcuni paesi del Nord, Gran Bretagna, Germania, delle multinazionali che esportano in giro per il mondo, ma non di chi produce e vive qua. Made in, tradotto per chi ci ascolta, quello che compro devo sapere dove viene confezionato. Se viene fatto da dei bambini in Bangladesh pagati a 3 euro al giorno, lo voglio sapere, poi magari lo compro lo stesso. Però so che sono complice di un omicidio e del lavoro minorile. Invece l'Europa no. Nonostante il Parlamento europeo abbia votato a grande maggioranza per il Made in. Mettete le etichette sulle scarpe, sugli accendini, sui computer, sui frigoriferi, sulle arance e sulle melanzane. Ha vinto per ora la linea del no. Il mercato prevale, il prezzo minore è quello che prevale, le multinazionali devono esportare, quindi non possiamo inimicarci la Cina e l'India perché altrimenti noi tedeschi dove esportiamo. Sono pessimista da questo punto di vista. Come Lega le stiamo provando tutte, perché poi ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Pensiamo ai mobilieri, ai calzaturieri, ma pensiamo agli allevatori, ai produttori di latte, a tutti quelli che lavorano, ai produttori di formaggio, tutto. Però l'Europa non ragiona con queste logiche. Noi ci riproveremo. L'Italia aveva approvato una legge di questo tipo che qua è stata assolutamente ignorata. E anche il voto del Parlamento europeo, e chiudo, è stato totalmente ignorato perché gli eletti e i cittadini contano un fico secco. Decide la Commissione, siccome in Commissione prevalgono gli interessi delle multinazionali del nord Europa, di quello che votano i parlamentari europei se ne fregano. L'Europa sta suicidando la sua produzione. La produzione di fotovoltaico, ad esempio in Italia, è già morta. L'Europa arriva tardi, chiude la stalla quando i buoi sono scappati, ma da settimane. Quindi ammesso e non concesso che mettano qualche dazio per i produttori italiani e europei in generale è già finita perché la Cina ha ormai invaso il mercato con tutti i suoi prodotti e sottoprodotti. Ma questo vale per l'olio d'oliva che non viene protetto, vale per l'ortofrutta che arriva dal nord Africa, vale per le scarpe, per le felpe. In quattro anni ci hanno impedito di mettere l'etichetta. Cioè l'Unione Europea, perché così vogliono le multinazionali del nord Europa, non fa capire ai suoi consumatori dove viene prodotto questo braccialetto, questo pezzo di carta, quello che mangio e che bevo soprattutto, perché il mercato non vuole questi vincoli, dicono. Peccato che poi Giappone, India, Stati Uniti, Canada, Cina impongano dei dazi a protezione. È una fregatura nel nome delle multinazionali dei paesi del nord Europa, quindi l'anno prossimo si vota per le elezioni europee. La Lega non è contro l'Europa, ma sicuramente contro questa Europa faremo il diavolo a quattro. Grazie. 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 Grazie.